Adesso la prossima relatrice è Paola Iacobini e prima di darle la parola leggo brevemente il profilo e poi ti farò una domanda introduttiva. Allora, laureata in scienze della mediazione linguistica, interprete e traduttrice, nel Regno Unito ha conseguito master interpretariato e traduzione presso la University of Westminster di Londra. Trainer e coaching in programmazione neurolinguistica con licenza conseguita negli USA con Richard Bartler. Dall'unione delle competenze acquisite nell'ambito delle lingue della PNL nasce NLP for English di cui è ideatrice e trainer il metodo innovativo per imparare l'inglese velocemente e senza sforzo con le neuroscienze. La domanda che io ti faccio, anche qui poi essendo tu liberissima, la PNL di cui tu ci parlerai viene presentata sostanzialmente sempre come qualcosa che nasce negli anni 70 da alcuni grandi, tra cui l'uomo che è citato in questo curriculum. Curriculum, esatto. Ora, non tutti ricordano forse, c'era già un altro signore che un po' di anni prima, verso il 1486 o giù di lì, dice, dice, Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, affinché tu, quasi sovrano libero, ti plasmassi e ti formassi nella forma che tu avresti scelto. Perché noi possiamo anelare alle cose divine, che sono le somme, oppure occuparsi di quelle inferiori, che sono le meschine. Perché noi vogliamo se lo possiamo. Ora, il messaggio fondamentale che i profani come me hanno capito dai libri della PNL, divulgati in Italia in malo modo, secondo me, con tutta una serie di differenze che spero tu almeno brevemente farai, sostanzialmente trasmettono il messaggio Se tu vuoi, puoi. Che è una traduzione, secondo me un po' semplificata, del messaggio di quel signore là che ho citato prima, che è Giovanni Pico della Mirandola, che scrive questa roba nel discorso sulla dignità dell'uomo, e che di fatto diventa un momento di passaggio dal Medioevo al Rinascimento. Ed è proprio lì che cambiano anche i linguaggi, quando tu parli di inglese, per molto tempo la lingua della scienza è stata il latino, per tanto tempo non si ricorda, ma è stato l'italiano, fino a non più tardi di un secolo fa. E allora ecco, la domanda che ti faccio è, ma la PNL di cui tu parli, di cui sono molto curioso, perché vorrei venire da te a prendere qualche lezione. Ne sario onorata. Ecco, quale approccio ha? L'approccio che io ritengo serio, che è quello di un uomo italiano del quindicesimo secolo, o un approccio magari un pochettino più mediatico degli ultimi anni con alcuni libri di Bancarella, che personalmente, avendoli letti e studiati, mi hanno lasciato un po' con la mare in bocca. Scusami la domanda cattiva. La relazione, scusate, do il titolo, quando la traduzione diventa tradimento. Paola Iacobini, grazie. Allora, grazie. Intanto, grazie di cuore a Valerio Malvezzi, perché lui pensa di essere stato, di aver assunto il ruolo del moderatore cattivo, non sapendo di avermi fatto un grandissimo regalo. Perché in realtà non era, gli inglesi direbbero, I wasn't supposed to talk about this. Non si supponeva che io dovessi parlare di questo, perché in realtà oggi non parlerò di PNL, ma venendo dal mondo della traduzione e dell'interpretariato, in realtà mi è stato chiesto giustamente in questo contesto di parlare di traduzione. E infatti vi farò un accenno che ben si sposa con tutto quello che è stato detto finora. In realtà però, volendo con grande gioia rispondere alla domanda di Valerio, sono felicissima di dire qual è il mio approccio. A me piace parlare di una PNL etica e funzionale, tanto per cominciare. Purtroppo la PNL viene considerata, quindi programmazione neurolinguistica, viene spesso considerata, molto chiacchierata, viene spesso considerata come l'arte della manipolazione. Io ci tengo tantissimo a fare una precisazione, e cioè, fondamentalmente la PNL che oggi viene definita non solo come una disciplina che nasce dalle neuroscienze, ma come una tecnologia in quanto insieme di tecniche che ci permettono ovviamente di evolverci in una certa direzione, in realtà la PNL cosa ci permette di fare? Ci permette innanzitutto di avere, io la definisco addirittura, visto che abbiamo parlato anche di tematiche abbastanza importanti oggi, a me piace dire che la programmazione neurolinguistica in quanto strumento non è essa stessa un potenziale strumento di manipolazione, ma in realtà la manipolazione eventualmente è in chi la usa. Quindi io divento, diventa strumento manipolatorio nella misura in cui io che la utilizzo, decido di utilizzarla per uno scopo non etico, per cui io so che tu non hai bisogno di qualcosa, che la mia modalità di approccio è assolutamente non corretta, lì è l'errore. Mi piace spesso fare questo esempio, e con questo confido nella possibilità di dare una risposta esaustiva alla tua domanda, ovvero, è un po' come il martello mi piace dire, se io utilizzo il martello per appendere un quadro ci impiego un secondo con sforzo praticamente zero, se invece io utilizzo il martello e lo rompo in testa ad una persona, o meglio, lo do in testa ad una persona, evidentemente commetto qualcosa di sbagliato. Quindi cosa voglio dire? Nella misura in cui la programmazione neurolinguistica ci permette di avere una comunicazione molto più empatica, e la buona notizia qual è? Che la comunicazione empatica nasce innanzitutto da noi stessi, quindi io incomincio ad avere un dialogo interno che è molto più funzionale, soprattutto nella misura in cui, grazie a questo strumento o tecnologia, meglio ancora, incomincio a rendermi conto di quelle che sono le disfunzioni, o comunque una serie di dinamiche non funzionali che sto mettendo in atto. La PNL, a me piace definirla in questo modo, ed è una cosa che mi appassiona molto e mi emoziona quando ne parlo anche durante i miei corsi. A me piace dire spesso che la PNL per me è uno strumento di pace, per una ragione semplicissima, che è diversamente da quello che spesso viene detto, o da quello che spesso si crede, la PNL ci insegna l'ascolto attivo. Ascolto attivo significa l'interlocutore è importante per me, significa io inizio ad accorgermi, io addirittura nei miei corsi sollecito delle esercitazioni che vanno più nella direzione della mindfulness, dell'attenzione, dello sviluppo dei canali sensoriali, e questo ci insegna ad essere molto più presenti nel qui e ora, ed essere quindi molto più consapevoli di quello che avviene dentro di noi, di quello che avviene fuori da noi, nel nostro contesto e soprattutto con le persone che ci sono di fronte. E allora quando noi iniziamo, visto che gran parte, diciamo uno degli scopi principali della PNL è creare una comunicazione che sia quanto più funzionale ed efficace possibile, è chiaro che se io il mio interlocutore lo ascolto sul serio, anziché parlargli sopra, come spesso ci viene insegnato, attuando dinamiche che tutto vorrebbero dire tranne che tu sei importante per me, quando mi accorgo di un micro segnale, quando mi accorgo di un tuo gesto di tensione, di imbarazzo, di difficoltà, quando mi ricordo il tuo nome, quando di te comprendo ogni cosa, beh, scusatemi, per me la PNL è uno strumento di pace, significa tu sei importante per me, in questo momento ho i brividi perché ci credo fortemente, e questa è la dimostrazione, una dimostrazione che nella mia vita personalmente sto non applicando, perché a me non piace dire nemmeno che la PNL è uno strumento, la PNL è qualcosa, è una filosofia che quando compresa diventa un meraviglioso non vestito, una filosofia di vita che ci accompagna ovunque perché non possiamo più separarcene e per me significa rispetto per l'altro, quindi è chiaro che dipende da come la utilizziamo, sono d'accordo e io ti ringrazio per questa domanda perché è qualcosa che mi sta molto a cuore, ti chiedo se ho risposto alla tua domanda o se desideri un approfondimento in tal senso. Mi dichiaro soddisfatto. E questo mi rende immensamente felice. Allora a tal proposito, visto che in realtà io continuerò parlando anche di qualcos'altro, rompo un po' gli schemi e scendo dal palco per due ragioni, uno perché non amo le barriere architettoniche per cui l'energia che si blocca dietro un tavolo è qualcosa che personalmente non amo e poi perché visto che siamo nella fase post-prandiale sicuramente una rottura di schema può solo farvi bene, non so se siete d'accordo, benissimo. E allora detto questo io mi avvalgo anche del puntatore perché tra un attimo ci sarà qualche slide che ci aiuterà e intanto colgo l'occasione, visto che non ho avuto la possibilità, mentre prepariamo le slide, intanto di ringraziare veramente di cuore Francesca Salvador che ha voluto la mia presenza in un contesto che apparentemente... Grazie. Era per te l'applauso. Era distratta quindi non ha compreso che l'applauso era per lei. In un contesto che apparentemente potrebbe sembrare un po' fuori da quello che è il mio ambito, visto che non sono una giornalista, non mi occupo fondamentalmente di quelle che sono le tematiche trattate sino a questo momento. È chiaro però che in qualche maniera ciò di cui parleremo insieme, il mio intervento sarà più breve rispetto a quello degli altri relatori, ma in qualche modo accarezzeremo alcuni temi e comprenderete come la traduzione in realtà e quindi comunque un approccio alle lingue, la comprensione di quanto le lingue possano davvero fare la differenza in certi contesti, la conoscenza delle lingue ci possa restituire la verità. Ora, Enrica Perucchietti che è andata via per ovvi motivi anche logistici, ci ha parlato di che cosa? A me è piaciuto molto il suo messaggio, credo che sia stata straordinaria come tutti i relatori che mi hanno preceduta e Enrica mi è piaciuta perché ha detto incominciamo davvero ad attivare l'attenzione rispetto a tutto ciò che in qualche modo ci toglie la libertà e cominciamo a capire quali sono le tecniche, che poi è vero sono sempre le stesse, che sono le tecniche di manipolazione, quelle che non ci permettono di accedere ad una verità più vera, scusate la ridondanza, ma ovviamente è voluta. Ed è chiaro che in questo breve intervento che farò il mio scopo sarà proprio quello di farvi capire intanto quanto la conoscenza di una lingua ci restituisce davvero tanta libertà e non mi riferisco soltanto al piacere di poter viaggiare in totale autonomia, non è un caso che io stia guardando amabile che i viaggi li ama, quindi non solo poter viaggiare in autonomia e poter dialogare con chiunque, ma anche poter attingere alla fonte e rendersi conto di quello che era il messaggio vero, originale che l'autore di quella notizia, di quell'informazione, di quel testo, di quel seminario in realtà voleva trasmetterci, perché capite bene che ogni volta che parliamo di traduzione, che parliamo di lingue, nella misura in cui c'è un mediatore, penso possiate comprendere molto facilmente che inevitabilmente c'è in qualche modo appunto una mediazione, c'è una distorsione, ci sono dei dati oggettivi. Ora personalmente mi occupo, come avrete compreso dalla presentazione che ha fatto Valerio di me, non mi occupo soltanto di lingue, solo di interpretariato o traduzione, questa è la mia storia, sono più di 30 anni che mi occupo di lingue, ma poi il mio percorso mi ha fortunatamente portata nella direzione della comunicazione, della formazione, delle neuroscienze, della programmazione neurolinguistica ed è in quest'ottica che ho compreso quanto conoscenza delle lingue abbinata alla conoscenza del nostro cervello, delle dinamiche che noi mettiamo in atto, possa realmente renderci liberi. E quindi inizio dicendovi semplicemente questo, che con oggi io in realtà vi voglio dare anche una gran bella notizia, perché ad un certo punto mentre ero lì e dicevo ok ma cosa voglio dire stasera, è chiaro una scaletta ce l'avevo, però poi fondamentalmente mi sono detta Paola fai come al solito, parla col cuore, fai in modo che il tuo intervento possa lasciare davvero un segnale chiaro e soprattutto un grande bagaglio che ognuno di loro possa portare a casa. E la prima cosa che vi dico è un grande, vuole essere un seme, che non è solo di speranza ma veramente di libertà, che oggi l'apprendimento di una lingua è importantissimo e tanti sono, portano con sé la frustrazione di non conoscere una lingua e di volerla apprendere. Se io adesso vi chiedessi di alzare la mano, siamo bene o male in età adulta, e se io vi chiedessi quanti di voi oggi provano frustrazione perché non riescono ad attingere a quelle fonti in maniera diretta, che sia una fonte scientifica, che sia in campo informatico, che sia quando si viaggia in qualunque contesto. Quanti di voi desidererebbero in realtà attingere alla fonte direttamente e avere una conoscenza della lingua completamente diversa da quella attuale? Vi invito ad alzare le mani, quanto siete belli, siete veramente tanti, siamo tanti, anche perché poi gli italiani si portano in realtà tutta una storia, ma non entreremo nel merito perché in realtà ora tratteremo anche un altro tema legato anche all'informazione e agli inganni della malinformazione anche nella politica, nell'attualità e in contesti simili. E allora qual è la buona notizia che vi voglio far passare e con la quale concluderemo anche? Che in realtà se c'è qualcosa che ancora non ci è stato dato purtroppo comprendere è che l'apprendimento di una lingua può essere molto più semplice di quanto si possa immaginare. Quindi quello che vi dico è, se veramente pensate che l'apprendimento di una lingua sia una cosa complicata, che richieda tantissimo tempo, che sia macchinosa, che richieda sedersi ad una scrivania, no. Sono felice di dirvi dopo più di 30 anni di studio tradizionale delle lingue che in realtà esistono altre possibilità. Quindi vi dico non arrendetevi e mettetevi nelle condizioni, perché oggi si può, di conoscere una possibilità che vi renda davvero liberi di attingere alle fonti senza mediazioni. Ora è evidente che io non vi parlerò di storia, come vi dicevo non sono una giornalista, ma per inserirmi anche in maniera più armoniosa in questo contesto, vi farò una brevissima carrellata, ma proprio di due, tre episodi, che vi faranno capire quanto la conoscenza di una lingua straniera possa davvero determinare e fare davvero la differenza in determinati contesti. E quindi magari generare o meno anche degli incidenti diplomatici. Perché no? Possiamo anche, io credo che ognuno di noi possa immaginare quanto una interpretazione non corretta possa generare delle situazioni davvero molto, molto delicate, complesse, a volte addirittura imbarazzanti. E allora incominciamo appunto con una carrellata velocissima. E il tema appunto del mio intervento è proprio quando la traduzione diventa tradimento. Facile giocare anche con le parole evidentemente, tradurre e tradire, beh ragazzi hanno anche un po' la stessa radice e non sarà mica un caso. Ed è chiaro che questo porta con sé dei limiti oggettivi. Nella misura in cui chi traduce si porta comunque un bagaglio culturale di credenze, di esperienze e di conoscenze che inevitabilmente interagiscono, agiscono e in qualche modo influenzano anche quello che sarà il risultato della traduzione stessa. Non possiamo prescindere da questo. Perché altrimenti saremmo delle macchine. E se di macchine vogliamo parlare, vi faccio anche una domanda. Desirerei però che mi rispondeste sinceramente per alzata di mano, anzi con un'alzata di mano. Quanti di voi utilizzano o hanno mai utilizzato o fanno comunque uso di un traduttore automatico? Questo è un rospo che mando giù con difficoltà e adesso capirete perché. Ok? Quindi ora vi ho fatto questa domanda solo per accennarvi, darvi uno spunto di riflessione, ma adesso capiremo per quale motivo è assolutamente sconsigliato farlo. E questo riguarda anche i temi che affronteremo. E allora vediamo se... Ok. Inizieremo quindi con un po' di storia, ma non vi preoccupate, non riprenderemo i romani, non inizieremo da lontano, anche perché sarà un passaggio velocissimo, solo per farci analizzare quello che è uno degli aspetti dell'importanza della traduzione. Non potevo non citare Attila, il 7 dicembre è stata inaugurata addirittura in prima visione mondiale alla scala di Milano, quest'opera che magari molti non conoscevano nemmeno, inedita sino a quel momento di Verdi. E sapete, voi direte, che c'entra Attila con tutto questo? Ebbene signori, torniamo indietro addirittura, veramente nella notte dei tempi oserei dire, stiamo parlando del 449, quando Attila arriva in Italia affascinato dai romani, e poi ad un certo punto qualcosa accade, si ritrova vittima di un complotto. Guarda caso, la mediazione tra lui e gli italiani era avvenuta attraverso appunto un intermediario, quindi lui non era autonomo, ma aveva dovuto necessariamente ricorrere ad un'altra persona, che guarda caso si era cercato di portare dall'altra parte, era stato invitato tra l'altro al tradimento. E questo è soltanto un caso, potremmo arrivare anche all'11 febbraio del 78, ancora oggi ci si chiede, torniamo indietro, anzi andiamo avanti decisamente, 1979, ancora oggi in tanti si chiedono quale sia stata la vera ragione della caduta dello Shah di Persia, c'erano più di 11.000 uomini statunitensi, in realtà soltanto due di questi sembravano avere una conoscenza minima del persiano. Capite bene che nella comunicazione, in situazioni molto delicate come queste, potrebbero nascere incidenti diplomatici o comunque dei fraintendimenti davvero molto ma molto seri. Non solo, è importantissimo fare un'altra annotazione, nella traduzione quanto è importante il contesto. Riprendo molto volentieri l'intervento di Enrica Perocchietti, ricordate quando ci ha fatto quell'esempio bellissimo a mio parere di quella immagine, ovviamente utilizzata come strumento di manipolazione sicuramente, quell'immagine che ci ha descritto di questa donna che aveva con sé questo bambino, due uomini armati con casco e manganello e un uomo che sembrava volerla aiutare. Ebbene, il blocco di quell'immagine, di un solo fotogramma, decontestualizzato, in realtà diventa essa stessa tradimento. Quella è stata la traduzione di un'immagine, perché è chiaro che non parliamo solo di traduzione in quanto parole, anche perché vi inviterei a soffermarvi su un dato. All'interno della comunicazione quanti di voi sanno quanto incidono realmente le parole? Il 7%. E allora se io mi soffermo soltanto sulle parole, capite bene che le parole di per sé non mi possono dare tutte le risposte che io cerco, ma la contestualizzazione diventa addirittura l'elemento più importante ed è in quel contesto che le parole hanno un valore. Esattamente come quelle immagini nel momento in cui vengono riportate all'interno di un contesto corretto, allora sì io posso arrivare davvero alla fonte del messaggio originale, non manipolato, non mediato, non frainteso e soprattutto non pericoloso, non strumento di manipolazione in questo caso perché sicuramente di questo parliamo. Ebbene se parliamo per esempio di quando si sono state attribuite delle parole gravissime addirittura al presidente iraniano che avrebbe detto Israele scomparirà entro vent'anni dalla cartina geografica e questo suo messaggio è stato tradotto in realtà in tanti modi ben più pericolosi che avrebbero attribuito in realtà una volontà distruttiva. Ora capite bene che se io dico una cosa del genere all'interno di un contesto che lascia pensare che la volontà sia quella ha un senso, ma se io decontestualizzo, e chiaramente non siamo qui per fare politica, ma se io decontestualizzo anche un'affermazione di questo tipo può assumere qualunque tipo di significato. E allora, quello che vi invito a fare anche quando ci approcciamo alle lingue straniere in generale, il mio invito è sempre questo, cerchiamo sempre di contestualizzare. Quando qualcuno mi chiede Paola mi sai dire qual è il significato di questa parola? Io non do mai una risposta. La prima domanda che faccio è mi puoi dire in quale contesto? Perché quella parola può avere veramente dieci significati diversi. Vi voglio fare un esempio ed è per questo che vi ho chiesto quanti di voi siano soliti utilizzare Google Translator oppure comunque un traduttore automatico. Ricordo un episodio in cui mi fu chiesto inizialmente di tradurre la brochure di una scuola di italiano per stranieri e mi ero, diciamo, rifiutata di farlo perché non avevo tempo per occuparmene, ma in seconda battuta mi fu chiesto comunque di controllare la traduzione che altri avevano fatto. Ad un certo punto nella verifica di questa traduzione mi ritrovo di fronte a qualcosa di per me sconvolgente perché all'interno della traduzione mi ritrovo la parola alert che io credo sia abbastanza intuitivo già da parte vostra non a caso l'approccio che io amo consegnare a chi si avvicina a ciò che faccio e al metodo di cui parlo è un approccio intuitivo. Ora, se l'obiettivo della brochure nel caso specifico è quello di dire che il focus, l'attenzione è sullo studente per cui tutte le attività e tutti gli obiettivi sono legati a quelli che sono gli obiettivi dello studente e quindi il senso è tutta l'attenzione delle attività della scuola praticamente gira intorno allo studente. Ora, è chiaro che se io utilizzo un traduttore automatico e inserisco la parola attenzione capite bene che mi può uscire la parola alert peccato che la parola alert si utilizzi prevalentemente come allarme fondamentalmente quando magari uno stato è in un momento di allarme avete presente quando in situazioni di emergenza si dice allarme rosso, allarme giallo allarme oppure di grado 1, 2, 3 o 4 in ambito militare capite bene che forse se parliamo di studenti all'interno di una scuola non è sicuramente questo il caso e allora qual è l'invito che vi voglio fare? Sicuramente contestualizzare e non utilizzare degli strumenti che è lontani dalla nostra capacità che è solo umana per il momento fino a dimostrazione del contrario è solo umana cioè della nostra capacità di contestualizzare concetti e parole che solo inseriti in un determinato contesto ci possono davvero permettere di giungere alla fonte o comunque di trasmettere un significato davvero importante quindi capite bene possiamo ovviamente incappare in situazioni in cui la traduzione diventa pericolosissima può addirittura diventare oggetto di incidenti o causa di incidenti diplomatici sicuramente non meno importanti e non meno delicati anche nella quotidianità io vi invito 5 minuti grazie sì io ho avvisato ho avvisato Valerio che con il microfono sono pericolosa per cui è necessario che mi venga richiamato più volte e ecco qui c'è un il titolo purtroppo non si legge ovviamente c'è qualcosa di incompatibile nelle slide un altro dato molto molto semplice l'immagine ovviamente la riconoscete il titolo che leggete solo in parte che quindi forse non vi è chiaro è Easy Fit to Run Italy ed è un titolo non a caso l'ho lasciato in inglese che tra l'altro mi sta molto a cuore Easy Fit to Run Italy significa è adatto a governare l'Italia vi sto parlando di un titolo di una delle dei numeri dell'Economist stiamo parlando back to come direbbero gli inglesi andando indietro di un po' di anni al periodo in cui io vivevo a Londra e stavo proprio scrivendo la mia tesi per la Westminster University che era ovviamente una traduzione tecnica guarda caso in cui avevo deciso di affrontare come tema proprio questo ovvero in quel momento regnava Berlusconi e avevo preso una serie di articoli dell'Economist che trattavano questo tema e che ovviamente mi dava l'esatta percezione di quella che era la visione del mondo esterno dell'Italia e io da italiana mi stavo facendo delle domande in alcuni momenti ero arrivata anche a dirmi ma non lo so se tornerò in Italia dato il momento in realtà e mi riallaccio brevissimamente a quello che aveva detto Valerio ricordate quando ha citato la sua lettera bellissima che ho trovato veramente meravigliosa in cui parla di fuga di cervelli e di micro imprese beh mi sono sentita molto toccata perché sia perché rappresento una microscopica impresa e sia perché sono uno di quei cervelli apparentemente in fuga che però poi hanno deciso di tornare come descritto in un libro che trovo meraviglioso Generazione Boomerang che parla di traiettorie di consapevoli ritorni cioè di persone che partono e decidono poi di tornare per dare un valore o provarci almeno al proprio paese e quindi mi sono sentita molto toccata da quanto ha detto Valerio e quindi quello che era il momento politico dell'Italia in quel momento poteva essere per me un motivo o per decidere di restare a Londra o a maggior ragione per decidere di tornare sono felicissima di aver deciso per la seconda e dire quindi io torno in Italia perché vediamo cosa si può fare in questo paese noi non ci arrendiamo che credo sia lo spirito di tutti i relatori superlativi che avete sentito parlare e che fanno tutto quello che fanno con enorme passione perché vogliono dare un contributo importantissimo a livello di consapevolezza e allora ovviamente perché vi ho fatto vedere questa immagine perché è chiaro che un traduttore un mediatore può essere molto pericoloso nella misura in cui può in qualche modo deformare o manipolare il messaggio però ci sono anche delle situazioni in cui la presenza di un interpreto di un mediatore può invece assolutamente essere favorevole e positivo addirittura a livello culturale all'immagine di un paese non starò io certamente a raccontarvi di tanti misfatti e di tante situazioni che ci hanno resi ridicoli in contesti europei in cui non siamo stati evidentemente adeguatamente rappresentati potrei farvi ascoltare dei video non so in realtà se ne avremo il tempo io manderei questo che è veramente brevissimo per farvi capire come in certe situazioni invece un interprete sarebbe addirittura necessario e quindi il mio invito vuole essere quello di osservare con attenzione e ovviamente essere critici anche rispetto a questo giusto velocissimamente anche perché sapete che i nostri politici sono chiacchieratissimi per la loro non conoscenza dell'inglese ma non sono loro in realtà è sicuramente un problema culturale che ci caratterizza tutti in realtà desidero concludere in maniera molto semplice semplicemente facendovi soffermare su un concetto importantissimo ogni volta che siamo di fronte ad una traduzione noi siamo di fronte come vi dicevo a delle problematiche oggettive innanzitutto ragioniamo su questo aspetto è chiaro che il committente nel momento in cui commissiona una traduzione presumibilmente ha un obiettivo da raggiungere il traduttore se non coincide con il committente capite bene che già di per sé costituisce un'ulteriore mediazione e di quello stesso traduttore dovremo necessariamente analizzare la sua storia il suo background culturale le sue credenze le sue convinzioni la sua capacità di rimanere fedele al testo molti traduttori non riescono a rimanere aderenti al testo per il loro bisogno e io rappresento tra questi rappresento uno di questi ecco perché ho deciso anche di fare altro perché il mio desiderio di creare era talmente tanto che in realtà poi ho capito che avevo bisogno di dire le cose che volevo dire io e non le cose che volevano dire gli altri e quindi bisogna anche tenere conto veramente di tantissime problematiche nonché l'etica che è un po' il discorso che vi facevo prima nel momento in cui vi parlavo della programmazione neurolinguistica la PNL è uno strumento straordinario se lo utilizzo con etica e per il bene dell'altro è chiaro che se lo uso male anche no e quindi è chiaro che se io come traduttore o io come committente ho un fine che è assolutamente etico ovvero rendere un messaggio che sia quanto più autentico possibile beh già mi posso ritenere molto fortunato ma considerate che ci sono degli aspetti culturali che noi non possiamo assolutamente bypassare vi voglio fare un esempio banalissimo io sono di Bari e noi a Bari abbiamo una spiaggia che non chiedetemi perché ma è stata nominata premesso che la prima spiaggia che abbiamo perché in città non ne avevamo una è stata chiamata pane e pomodoro ora capirete che se io parlo con un barese dico ma andiamo a farci una passeggiata a pane e pomodoro lui mi capisce ma se io dovessi tradurre questo banalissimo concetto ad una persona che non è di Bari senza andare troppo lontano non parliamo nemmeno di uno straniero parliamo semplicemente di una persona come voi che vive in Veneto io vi dico ok allora io in genere la mattina vado a pane e pomodoro la persona può pensare ah vabbè questa si alimenta pane e pomodoro ogni mattina mangia pane e pomodoro capite che ci sono degli aspetti culturali che noi non possiamo bypassare e nel momento in cui non ne teniamo conto inevitabilmente stiamo già tradendo quella che era l'intenzione quindi la necessità di convertire andando a mediare e attraverso delle spiegazioni o delle perifrasi comunque inevitabilmente cambiare il concetto che non sarà mai aderente all'originale e allora concludo perché credo che siamo in dirittura d'arrivo dicendovi è chiaro che la libertà noi la conquistiamo come? La conquistiamo sicuramente nella misura in cui ci rendiamo autonomi ci rendiamo liberi di attingere direttamente alla fonte e la vera libertà a mio parere è dell'augurio che io vi faccio con tutto il cuore che voi possiate scoprire quali sono quelle modalità che bypassando la parte razionale vi permettono di attingere direttamente alla vostra parte inconscia che rappresenta il 95% del nostro potenziale per entrare in risonanza con le vibrazioni della lingua e comprendere che la lingua si assorbe e che in qualche modo la si può apprendere in una maniera che è molto distante da quello che purtroppo ci è stato insegnato questo è ciò che mi riempie il cuore ogni mattina vedere la luce che brilla negli occhi delle persone che scoprono questa nuova possibilità e con i brividi addosso vi dico vi auguro veramente questa libertà concedetevi questa opportunità perché è assolutamente possibile e con questo vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti